Ciao cari amici rossoneri, cari amici e lettori di AC Milan Insight, ben ritrovati e se è la prima volta benvenuti nel nostro canale YouTube dove con i consueti video io, Giuseppe e Lolli cerchiamo di portarvi dentro le vostre case, spero vincevolmente, le notizie che riguardano il nostro Milan. Oggi andiamo a conoscere nel dettaglio chi sarà l'arbitro disegnato per dirigere la gara di venerdì sera in programma alle ore 18.45 a San Siro contro l'Udinese. Ma prima di iniziare come al solito vi chiedo di lasciare un commento, di lasciare un like, di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per non perdervi nessuno dei nostri video appunto. Vi ricordo inoltre di seguirci su tutti i nostri canali social dove qui in descrizione troverete i link, vi ricordo Instagram, Telegram, Tweet, TikTok, Facebook, Youtube appunto ci trovate ovunque, di seguire il nostro sito www.acmilaninsight.com per rimanere costantemente aggiornati nel mondo rossonero. Inoltre ricordo la nostra particolare rubrica dedicata alle tifose rossonere chiamata Milanista Inside. Consiste in una piccola intervista con delle domande banalissime perché sei Milanista, chi è il tuo giocatore preferito attuale, quello di sempre, insomma domande banali al quale allegherete qualche foto, qualche vostra foto e ci invierete il tutto e noi poi provvederemo a pubblicarlo sul nostro sito e sui nostri canali social. Diciamo un modo divertente per farvi conoscere se l'idea vi piace andateci a contattare appunto nel nostro canale social o sull'email che trovate nel nostro sito e ci inviate un messaggio dicendoci che siete interessati a questa rubrica e poi saremo noi a contattarvi. Detto ciò andiamo all'argomento odierno di questo video. Come ha detto il direttore di gara. Prima di parlare del direttore di gara però andiamo ad analizzare la partita, quella con l'Udinese. Partita sempre tosta, negli ultimi anni soprattutto. Ricordiamo l'andata del campionato scorso che riuscimmo a vingerla per 2-1 grazie alla rete di Ibrahimovic all'ottantatresimo. Poi nel minuto iniziale, non ricordo adesso il minuto preciso, se non sbaglio intorno al ventesimo, la rete di Chessigono in mezzo, la rete di De Paul. Mentre il ritorno lo pareggiamo 1-1 con il rigore al novantasettesimo di Franchesi. L'andata di questo campionato invece lo giocammo l'undici dicembre e lo pareggiamo 1-1 corretto al novantaduesimo di Zlatan Ibrahimovic. Zlatan che questa volta al 90% non sarà della partita, sicuramente non dall'inizio, si spera possa andare quantomeno in panchina per poi averlo a disposizione nel derby di Coppa Italia del primo marzo. Dichiamo che filtra un po' di ottimismo ma la situazione ancora è abbastanza incerta per quanto riguarda la sua presenza anche in panchina di venerdì, la gara di venerdì. Quindi un udinese che abbiamo sempre sofferta negli anni e che domani però, dopo il mezzo passo falso che abbiamo avuto contro la Serenitana sabato scorso, da cui per fortuna i rivali non hanno approfittato e ci hanno graziato, non possiamo più sbagliare. Come scrissi nell'editoriale di martedì, concluse il mio editoriale con una frase, cioè Diavolo, se vuoi continuare a sognare non puoi più sbagliare, a partire già appunto dalla partita di venerdì contro l'udinese. Ma adesso immergiamoci nel nostro argomento di questo video. Il direttore di gara, come avrete sicuramente letto anche dal nostro sito, sarà il signor Matteo Marchetti. Quindi è un arbitro 32enne della sezione di Roma, di Ostia Lido, e ritenuto il fiore all'occhiello della sezione. Unico in questo momento in Serie A, appunto, di uscito fuori da quella sezione. Un arbitro che ha avuto una carriera abbastanza rapida, in poco più di un decennio, è passato dalle categorie regionali alla Serie A. Nel 2010, infatti, arbitrava ancora in eccellenza, mentre l'anno seguente approdò in Serie D, dove ci rimase per tre anni, per poi passare in Lega Pro. Mentre nel 2020 fa il suo esordio in Serie B, e il 20 febbraio del 2021 esordisce in Serie A, arbitrando in Genova-Verona. Di lui dicono che è un arbitro, i suoi colleghi dicono che è un arbitro dal carattere freddo, che gli consente di arbitrare tranquillamente e con serenità in qualsiasi tipo di partita, anche le più calde. Le sue caratteristiche dicono che è un arbitro, insomma, nell'arco della sua carriera si è notato che tra le sue caratteristiche appartiene il fatto che concede pochi rigori e che non ama estrarre i cartellini, infatti predilige il dialogo con i giocatori in campo. Questo per quanto riguarda il direttore di gara appunto, andiamo a conoscere pure da chi sarà assistito. Quindi come guardaline avrà il signor Galetto e Di Vuolo. Mentre come quarto uomo ci sarà il signor Gariglio, al VAR il signor Guida e alla VAR il signor Carbone. Detto ciò ragazzi, vi saluto, grazie sempre per l'attenzione, vi ricordo di andarci a seguire ovunque ci troviate, quindi sui canali social, sul nostro sito. Ricordo la particolare rubrica dedicata alle tifose rossonere. Detto ciò che dirvi, forza mia e finché il sogno è vivo, crediamoci. Un bacione a tutti e buona partita a venerdì. Grazie. 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 Grazie.